Eh! Qua è un evento, un evento! Ogni sopravvissuto che è ucciso respawnerà come squalo! Che dico! Qua è difficile, ma Giorgio non c'è come sembra perché... Eccolo! Eccolo! Carica, porca miseria, con quel tuo computer di legno! Dai! Allora, metto la barca buona e invito Anna e Cico. Quindi qua è più difficile. Allora, comunque, è successo di tutto, però dobbiamo fare una roba oggi. Dobbiamo aspettare finché non capiterà il round speciale col Titanic, perché io voglio giocare col Titanic, ok? Quindi sarà importantissimo che noi riusciamo a far capitare quel round speciale. Io voglio vedere la barca più grande della modalità. Poi oggi c'è anche Cico, quindi siamo in tanti. E Giorgio, in teoria, c'è, però mi sa che rimarrà alla lobby, vero? Eh, sì, per questo round, sì. Eh, sei proprio uno sfigato, eh, Giorgio. Eh, vabbè. E sei un bambino escluso, eh. Eh, sì, eh, sì. Un bambino escluso nel sangue. Ma chi è lo squalo? Io, Soro! Alex! Ah, c'è anche l'Alex Nuggets, eh, uno squalo nuggettoso del genere. Ti mancerò. Sì, 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 beh, quando mai? Mangiare per te è un po' la norma. Hai cannoni? Hai cannoni? Ti sono? No, non ci sei, Anna. Hai cannoni? Come no? Brava, ora ci sei. Sparatelo, che lui è sulla destra, eh. Non a caso. Ti mangio, eh. È lì, è lì. Lo vedete? Ho sparato, ho sparato. Ma cosa spari a caso? È dietro di noi. Ti mangio, eh. Ok, giusto, giusto. E poi questa barca non è che si naviga proprio benissimo. Non lo vedo. Non lo vedo. Non è molto pratico sparare allo squalo. Sparatelo. Ah! Ah! No, sono caduto, sono caduto. No, non mi dire, io sono in bilico sulla sedia tutta rotta. Bene. E non mi ha rifreddito. Anna, molla quel cannone. Preferisco usare il fucile, va bene? Ecco, brava, usa il fucile e sparagli perché è dietro noi, eh. Mi sa che anche Cico è morto. Dov'è? Aiutami. Cico, sei vivo? Sì, sono in mezzo all'acqua. Ah, mamma mia, ma la nave nostra va malissimo, tutta rotta e tutta scassata. Eh, ma che scherzo, mamma mia, Cico, è successo il peggio qui. È il peggio, sono uno squalo adesso. Eh, bene. Anna, dove sei? In acqua. Ah, bene. Perché qualcuno guida malissimo. Non ero io, è la barca che si è tutta sbanunata. Quanto devo restire? Dai, non ci vedo. Eh? È andata male. No, 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 no. È da solo. Eh, lo vedo, Giorgio, grazie per la telecronaca. Eh. In teoria ho il salvagente. No, 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 cosa vuole? Sì, 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 sì. Che cacchè sei, la gattana? Smettila! Aiuto! Dai, non venite da me, sono rimasto solo. Fa finire male. No, dai, dai, lasciatemi stare. Che sono tutto... Dai, smettetela, non è giusto, sono tutto solo, per favore. Ah! Ho la ciambella, ho la ciambella! Vabbè. Eh, niente. La ciambella non era tanto buona, secondo me. Le è servita un cacchio. Bene, bene, bravi, bravi, bravi. Ok, Alex ha vinto. In teoria ha vinto solo lui, perché lui era lo squalo originale, gli altri erano solo aggregati, tristi. Io adesso spero di essere lo squalo, perché Cico non ha visto una piccola sorpresina che io ho in questa modalità. E cioè, lo squalo più cattivo, più scioppone, più grande, più cattivivo. Mamma mia. Una roba in... Ma come? Eh, sì, sì, sì. Lo vedrai, lo vedrai. Se toccherà a me essere lo squalo, ti distruggo. Però, potrebbe anche capitare che io sono lo squalo e voi avete il Titanic. Lo sarò io, eh. Potrebbe essere un po' più facile per voi. Vediamo. Eh? Eh dai! Ehi, ancora! Ma non è giusto! Ehi! Gioinate la mia barca, questa volta prendo quella che non ci può sconfiggere nessuno mai. Va bene, posso entrare anche io. Non mi dovreste separarmi in due squadre, eh. Io penso di sì, Giorgio. No, non stai entrando anche tu, Giorgio. Prenditi una tua barca. Eh, va bene. No, ora ci sei, ora ci sono, ci sei. Perfetto, perfetto. Allora, tra otto secondi, Anna, tu ti devi poco rassegnare che non ci prendi. Tu hai un altro squalo, vero? No, no, solo questo squalo qua. Ah, che pizza! Eh, lo so, lo so. Ma non è giusto, sei proprio una bruttona con quello squalo normale. Ehi, 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 mio squalo è uno squalo di classe. Allora, ciao, gioco anch'io. Questo uo è bravo, Giorgio, sì, ora sì che non sei più un bambino escluso. Allora, vedete questo, è un catamarano, no? Voi vi dovete mettere... Fortissimo! Bravo! Voi vi dovete mettere sul retro, ok? E praticamente, siccome lei ci rimarrà sempre dietro, perché è velocissimo, noi la spareremo e la crivelleremo, ok? Ok. Questo è il piano. Ora, non so da dove esce, perché l'unico problema è se lei ci prende tipo... Eh, da davanti. Da davanti, eh. Se ci prende da davanti potrebbe... La vedete? Dov'era? Era solo una paura normale, non ci vedo. Non credo che ci veda, in realtà. Lì c'è la mia ciambella di prima, la vedete? Prendiamo. Non andare perché mori tantissimo se tocchi l'acqua, eh. Credo che lei sia dietro di noi, ma non ne ho la certezza. Ah, vi ho individuato. Ah, voi dovete avvistare. Ma non siete nulla. Ma non è vero, ma dov'è? Ma come? Ma ci sta prendendo in giro, ma non c'è. Sì, va bene. Va bene. Ah, l'ho intravista, ho intravisto qualcosa. Ma dove, dove, dove? È lì dietro. È lì, è lì, è lì, è lì. È lì, è lì, è lì. Dopo tre metri e tre chilometri magari ci può raggiungere, ma... Don, 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 don. Sì, sì, Anna, certo. Sì, ma... Ma è lentissimo. Anna, io fossi in te mi darei da fare per raggiungerci invece di fare wah, 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 perché stai con me. L'unico effetto che stai ottenendo è gridarci nelle orecchie, ma oltre a questo sei un pochino scarsa. Più che uno squalo mi sembri un salmone, risali la corrente. Ehi, 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 non ti permettere. Guarda, guarda, c'è Nemo là dietro. L'ho presa, l'ho presa. Eh, lo so, questa barca è un po' troppo forte comunque. Dai, Anna, puoi farcela, non devi andarci dietro, se tu ci vieni dietro non ci prenderai mai. Devi trovare un'altra strada, devi trovare una strategia, hai capito? Certo, ho capito, assolutamente. Secondo me è ancora dietro a noi. Non ha capito. Non ha capito niente, non ha capito. Vediamo, mo fa... Ah, era vicino, era vicino, era vicino, era vicino, crivellatela. Ah, no, 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 no Mi ero anche dimenticato di ricaricare Porca miseria Così impari a chiamarmi salmone Sono stato mangiucchiato da Nemo Porca miseria Andiamo Adesso toccherà sicuramente a me Quanto avete di percentuale di essere lo squalo? 13 Cico? 26 Io ho 44 quindi devo essere io per forza Lo sarò io Se lo sei tu mi arrabbio e non ti sarò amico mai più Per sempre Per i prossimi 16 mesi Ok quindi 7 secondi alla nostra inimicizia Perché già so che sarai tu Però noi vogliamo vedere il Titanic Vogliamo vedere il Titanic Dov'è sto Titanic? E perché Giorgio è in barca qui? E ciao sono in barca Che cacchio stai facendo? Scendi E non lo so E vabbè Dai Ma tu lo sai che si possono comprare anche delle armi? Sì? Che c'è lo squid sniper ad esempio Dove sono le armi? Non l'hai visto? Fai la barca Fai la barca Sì sì Vi invito Entrate presto Non ci state tutti Che ci sono? No ci stiamo tutti Ci state tutti Secondo me non ci state tutti Però è vero Le armi Porca miseria Il minigun voglio 2500 Sì ma costano tantissimo Lo squid sniper 1250 Il round dopo Non prendo i cosi io Li prendo ora? No tutti No no Non facciamo in tempo 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 Non vedo un cacchio Ok ok ci sono Eh la sedia da guidatore è mia Scendi No no Benissimo Alla grande Ma sono passata attraverso il vetro Alla grande Forse puoi rientrare Prova Prova Impossibile Aspetta Perché stiamo andando all'indietro? Non lo so ma immergiti Eh ci voglio provare Cioè ci vorrei Credo che No please Alex ci vanno Anna sei tu alla guida Anna Porca miseria il mio sottomarino No 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 Sto tornando su Mollalo 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 Ok ci siamo ci siamo ci siamo Ci siamo ci siamo Da per mangiarvi No Mangiati sto cacchio Dai 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 Mi sparano Che pizza Oh non facciamolo vincere per favore Che lo odio No Cosa succede? Mi ha ucciso Dai non fatevi Eh è qui Eh è qui Aiuto aiuto Lo sto sparando però Basta basta È difficile E definiamoci Allora io sto cercando di riemergere Perché stavo pure annegando un po' Niente sono morto Cosa c'è? In che senso? In che senso? Sono morto Sono morto Mi ho mangiato Proprio morto Morto? Sì sì Tantissimo Ah ci sono i resti del mio motoschifo Anna salici sopra Che lui non ci vede Ci sto parlando Brava Dov'è lui? Dove siete? Non lo so Non facciamoci vedere Non facciamo Che cosa fai? Non lo so Gestiscitela bene Non lo vedo Ma questo affare Non lo vedo Lo vedo Non vedo niente io Credo di averlo sparato Però non sono sicuro Sto cercando Eh no Attento Dov'è? Dov'è? Non lo vedo più Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Eccolo Lo vedo Lo sparacchio Posso farcela? No no basta basta Allora vai via Vai via Non ti voglio bene Vado via Mi vuole mangiare Ti sto aiutando a spararlo Non c'ha tanta vita Forse possiamo ucciderlo Cico e Giorgio Fate il tifo per noi Faccio il tifo Forza L'ho crivellato L'ho crivellato Vuole mangiarmi? Mi ha mangiato No Dai che muore Eh no È vissuto Porca miseria Stavo quasi arrivando alla spiaggia Eh lo so Lo so Io volevo un'arma Sì ma dai Se l'avessi comprata L'avrei ucciso Però il problema è che Non ho abbastanza Broblux Perché non mi Eh dall'ultima volta Mi sono scordato di caricarli Eh non va bene Eh non va bene no Però forse posso farlo al volo Quanti secondi ho? Eh 15 15 Vediamo se Ho i dati salvati Posso farlo Altrimenti no Però ho fatto in tempo A comprare i Broblux Eh posso comprare Eh posso comprare l'arma Ma posso comprarla adesso O solo dopo Prendo la Reagan Non lo so mi sa dopo Lo Squid Sniper o la Reagan Prendo La Squid Sniper Perché c'è anche la minigun Prendo la minigun Mmm Ma la minigun è troppo boda Non si può Sì sì aspettatemi No 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 Ma non mi mollare Ma non fare così Aspetta Ci sto provando È difficile Ok vai 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 No Giorgio è caduto No Giorgio Mi dispiace per te Giorgio No 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 Giorgio salta Salta Giorgio Salta Veloce Oh ci sono Bravissimo Bravissimo Siediti Siediti Ok ci siamo Ci siamo No 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 Sparatelo Sparatelo No no Sparativilatelo Quello zozzone Ricaricate Ricaricate Anna mi raccomando Tu occupati solo Di non andare a sbattere Vedete quei cerchietti gialli Che ogni tanto appaiono È lui È lui Mi son perso Eh adesso ti sistemiamo noi È dietro a noi Lo vedete Però è ignorante Quindi lui non ci vede a noi Ma noi non siamo Quindi adesso Anna Stai attenta Che lui è qui a destra Sì Non andare Dove siete Non andare È là È là Dov'è Ah sì lo vedo Davanti a noi Anna Crivelliamolo No Anna Stai andando addosso Anna Sei insieme No tranquilla È dietro a noi Crivellalo Crivellalo Ti sei arenata in uno scoglio Porca miseria Dai Cos'è successo Perché è difficile Ti sei fermata No non mi sono fermata Me lo son trovato di muso No no adesso io sono arrabbiato E voglio Il Titanic Con il minigun Zitto tu Cos'hai da dire sopra Cos'hai da dire Cosa stavi dicendo Che mi stavi borbottando sopra Cos'hai sei Una pentola a pressione Un catorgio Un catorgio sei C'hai ragione Giorgio Bravo Diglielo di più Eh Catorgio catorgio sei Bene Adesso Aspettiamo otto secondi E se non è adesso il Titanic Io ci rinuncio però Perché insomma Cioè L'altra volta Sei lo squalo Appena abbiamo smesso di giocare L'ultima partita Fuori dalla registrazione Avevamo il Titanic Ora Io non lo so Ma secondo me qua c'è tutta una Una congettura Sei lo squalo Sei niente Lo squalo Vi rovino adesso Porca miseria Vi rovino Siete pronti? Guarda Giocherò con voi per qualche istante Ma poi mi spazientirò E quindi vi ucciderò Pure Ma che bello Mi sembra un piano eccezionale Sarà proprio quello che farò Sì sì Mi dispiace un po' non usare la minigun Ma la minigun la userò nel round successivo Quindi Non c'è neanche da essere preoccupati No Penso che inizierò Uccidendo Alex Ma Eh no no Perché lui ha borbottato prima E voi sapete Tutti quanti No ci fate anche i memes su Instagram Quando qualcuno borbotta Lion si arrabbia molto Va a finire malissimo Quindi sai Credo che inizierò proprio da lui Quindi vi consiglio Di farlo scendere dalla vostra barca Alex Scendere Alex Spariamo Perché se Se voi lo fate scendere Io uccido prima lui Vedete sono grosso Ma no sto coso brutto Quindi sai Quindi sai Secondo me vi conviene farlo scendere Poi dopo Ognuno fa quello che vuole È sceso È stato un piacere Vai via dai Alex Non vuole scendere Ma siete cattivissimi Scendi dalla barca Guarda che morite tutti Se non scendi Vi vedo Mi faccio vedere Guardate come sono grossissimo Sono enormoso E vedo Alex qui da queste parti Credo Aspetta Credo che lui sia qui Ah mi state sparando Eh Certo No Interessante No sono caduto No Cico È proprio un vero peccato Cicchetto ballerito No per favore È un vero peccato Eccoti qui Dove sei È però ho visto anche Alex Io da queste parti Dov'è È impossibile Alex è morto da mo Ah Ti ho mangiato senza saperlo Ah ma tu pensa Buongiorno Cico E invece guarda un po' Gnami 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 Ma cos'è sta bestia Gnami Gnami Adesso Ma perché C'è il momento più bello Cioè il momento in cui Qualcun altro sarà lo squadro Io avrò la minigun E potrò crivellarlo di colpi E anche il titanic Eh speriamolo Ma no perché quello Te lo dice all'inizio Se c'è il titanic Ma non si può tipo comprarlo Cioè comprare la modalità speciale Ah no No secondo me no Cioè attivarla con i broblux No No non penso Dai ma io volevo tantissimo Cioè Però puoi comprare il titanic Eh ma il titanic costa tipo 8 mili Cioè non È troppo costoso E poi capita ogni tanto Quindi sarebbe una stupidaggine Non voglio essere io lo squalo Voglio che sia Giorgio Eh no Va bene Va bene va bene Va bene Perché io questa volta Lo sai cosa ti succede Ti crivello Quindi ti va proprio male Allora io direi Prendiamo Questo qui Vi invito Però guida un altro di voi Guida Anna Anna mi raccomando Va bene In giro in giro come prima E io con la minigun Invece Trasformerò Alex In uno stufato Al peperoncino Di nuggets Sei pronto Eh di squalo nuggets Eh lo squalo nuggets Sì sono prontissimo Nuggets di squalo Non fai paura a nessuno Sai Vedrete vedrete quando mi mangerò Ti friggiamo Ti facciamo impanato Fritto col pepe È proprio come i nuggets Che ti piacciono tanto Mi sta venendo fame Basta Ok Anna alla guida Io invece Guarda che minigun Guarda che È fortissimo È proprio grande Ti distruggo Alex Ah sono caduto No Sono stato troppo Vantato Aspettatemi Anna dove cacchio vai Ferma Stai andando In retromarcia Ma stai andando Fanquiquero Stai andando Ferma Vieni Porca miseria Dai Da qui Eh ci sto provando E ci sto provando Se hanno rimaneva ferma Ok ci sono Ci sono Vai 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 Dov'è lui Dov'è lui Dov'è lui È sotto di noi Dov'è 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 Non lo vedo Lo sento È dietro di noi Lo sento Dov'è dietro Alex Se metti fuori il naso È alla fine Eccolo Crivella Spara Spara Non lo vedo più Non lo vedo più Anna tu vai in giro bene Mi raccomando Non lo sbaglio Non ci prende Qui ci prende Non ci prende Ma dov'è lui È lì sotto Non vedi L'ho rivellato un po' L'ho rivellato un po' Rivellato un po' È vero Non lo vedo più Vieni fuori Usillanime Dove sei Non lo vedo più È sotto di noi Secondo me No 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 Sì sì È vicino È vicino Non è vero Quello è andato dall'altra parte Della mappa Non si vuole far vedere Alex non fare il cacca sotto È vicino È vicino È vicino È vicino È sotto noi È lì È comunque sta È vicino È vicino Si vede il cerchio giallo Porca miseria Spara 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 Sto sperando L'ho bucato Mamma mia Li abbiamo levato Tutta la vita Li abbiamo levato Aspetta che ricarico Ok Anna Va in giro Sempre così Va benissimo Sì sì La prossima volta Che si fa vedere Mamma mia Lo facciamo diventare Uno scuola pasta No Ci prende Ci prende Dov'è Ci ha ucciso Sì Questa è colpa di Anna Questa è Anna Ma perché Perché hai sbagliato a guidare Non è mai successo che il catamarano Che il catamarano si facesse prendere E quando si doveva fare prendere il catamarano Quando guidava Anna Io sono allibito ragazzi Non esiste È colpa di Anna Adesso Non volevo Eh non volevi Io ti faccio guidare Eh sì Fatti uccidere Forza È andata Tanto sapevamo che andava a finire così Ma non è facile È grosso da guidare Io sono deluso da te Anna veramente Cioè sei stata Una pilota Guarda Proprio triste Cioè sei andata A fare le curve tutte strane Lui ci ha raggiunto E io mi vergognerei Forse in te Guarda Veramente Cioè non lo so Hai fatto vincere Alex Nuggets Lo squalo Nuggets Lo squalo peggiore Sì perché è anche peggio Dello squalo Catorgio Dello squalo Ballerito Addirittura Eh potevi anche sbagliare Contro lo squalo Catorgio Forse Ma contro lo squalo Nuggets Cioè c'è veramente Da essere dispiaciuti Io adesso spero Che ci sia il Titanic Ti prego Facci apparire Non ci sarà mai Abbiamo provato Un sacco di altre volte Ma purtroppo Niente Titanic Per noi Però secondo me Il nostro catamarano È anche più forte Per non parlare poi Della barca unicorno Di Anna Eh Infatti Mi sembrava che ancora Non stessi elogiando La mia barca unicorno Fa anche gli arcobalini Mentre va A meno Un po' zoppicante È un po' lenta Rispetto al catamarano Davanti Bravo Cico Alla grande Sempre così Eh Ok Allora io direi Rimango in acqua anche io Mi faccio un bagnetto Insieme a lui E per questa volta Ci possiamo fermare Lion Un chico Alex Giorgio E Anna Out Ciao Ciao